velocissimo test della sony alfa 6.3 con le varie risoluzioni quindi 1080p a 25 frame al secondo 1080p a 50 frame al secondo 4k a 25 frame al secondo a 60 mega e 4k 25 frame al secondo a 100 mega a voi i commenti 1080p a 25 frame al secondo 16 mega con una scheda da 64 giga posso firmare otto ore e mezzo praticamente 1080p a 50 frame al secondo 26 mega una scheda da 64 giga posso registrare 5 ore e mezzo questa volta 4k a 25 frame al secondo 60 mega posso registrare 2 ore e 9 minuti una scheda da 64 giga sempre 4k 25 frame al secondo 100 mega con questa risoluzione posso filmare un'ora e venti con una sd da 64 giga spero che questo paragone vi sia stato utile se vi è piaciuto magari mettete il mio mi piace iscrivetevi al mio canale qui sotto e guardatevi gli altri video un saluto a tutti ciao